Inviterei l'aula in questo caso specifico che sicuramente mi tocca personalmente o comunque da vicino perché fa parte della provincia da cui provengo, inviterei i colleghi a riflettere su un punto, quello che è stato paventato cioè il fatto che alcuni di questi quattro corsi di laurea attivati con l'Università di Brescia presso la sede di staccata di Mantova si sta paventando la perdita di almeno tre di questi corsi di laurea e questo sarebbe una grave perdita non solo per la provincia di Mantova ma una grave perdita anche per Regione Lombardia. Perché dico questo? Perché quindi inviterei l'aula a riflettere su questo al di là del particolare quindi al di là della provincia di Mantova in sé perché Regione Lombardia su questi corsi in questi anni ha investito numerose risorse, ha investito numerose risorse anche in interventi collaterali che l'attivazione di questi corsi hanno portato come per esempio lo sviluppo del polo universitario nel quartiere di Lunetta a Mantova, ha investito molte risorse nello sviluppo delle professionalità sia da parte degli studenti che dei docenti che animano questi corsi e quindi il fatto di venir meno o il rischio del venir meno di questi corsi è una perdita che fa venir meno questi investimenti che Regione Lombardia con lungimiranza negli anni ha sostenuto. Quindi quello che si chiede con questa mozione che io ho sostenuto e ho firmato perché ritengo che quando si tratta di argomenti di questo tipo non ci siano divisioni politiche ma ci debba essere un'unità istituzionale per far sentire insieme la voce del territorio e quindi l'ho sottoscritta con piacere, quello che si insieme ovviamente al gruppo Movimento 5 Stelle, quello che si chiede con questa mozione è appunto che anche Regione Lombardia nella veste dell'assessore Mantovani o comunque della Giunta si inserisca nell'ambito di questa interlocuzione che devo dire è ancora aperta quindi qui si parla di una situazione in divenire a quanto ne so e quindi ancora risolvibile anche positivamente e quindi si inserisca in questa interlocuzione e anche Regione Lombardia che poi dovrà ratificare gli accordi e il piano di offerta formativa dell'Università di Brescia e quindi avrà anche un ruolo diciamo attivo in questo senso possa dire la sua e far notare insieme tutti insieme uniti che sarebbe una grave perdita, sarebbe una grave perdita per la Regione non per la provincia di Mantua, sia per la provincia di Mantua ma anche per la Regione e quindi il senso di questa mozione è questo e già ho detto delle professionalità che si sono sviluppate e di come verrebbero vanificati questi investimenti e lo sviluppo di queste professionalità tenendo conto che in questo periodo di grave crisi come ci diciamo molto spesso qui dentro, siamo di fronte a corsi di laurea che funzionano, che hanno risultati di incremento di iscritti, che hanno risultati di occupazione nel primo anno di uscita dall'Università che sono risultati positivi ed incoraggianti e quindi stiamo parlando di un, passatemi il termine, ramo sano che noi stiamo andando a tagliare o che si paventa di tagliare ma senza significato e senza senso. Quindi riflettiamo bene su quello che stiamo andando a fare e l'obiettivo e la richiesta che mi sento di fare e che è il senso della mozione è quello che anche Regione Lombardia, quindi tutti insieme noi qui dentro e la Giunta, possono prendere atto di questo, prendere atto che siamo di fronte a una situazione virtuosa, a una situazione positiva, a una situazione in cui c'è lo sviluppo anche di un quartiere, il quartiere di Lunetta, che ha dinamiche diciamo periferiche e quindi ha anche delle situazioni di disagio sociale e che lo sviluppo di questo polo universitario che addirittura stava pianificando e io utilizzo il passato però utilizzo il presente, che sta pianificando di svilupparsi, diamogli la possibilità di continuare a farlo perché è un'esperienza positiva ed è un'esperienza che funziona anche per lo stesso quartiere, per l'integrazione sociale e quindi il senso della mozione è di prendere atto di tutto questo e di attivarsi insieme nell'interlocuzione che si sta avendo con il Rettore e con i vari soggetti in campo, anche Regione Lombardia si possa inserire con un atto formale. Grazie.